Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda tra Calenzano e la variante di Valico per incidente. In A12 fare attenzione per lavori a causa del ripristino di un incidente tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze, cambio di carreggiata tra Colle Valdelsa Sud e Monterigioni in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena, chiuso per lavori lo svincolo di Siena Nord in direzione del raccordo Siena-Bettolle. Sulla statale Trebbis-Tiberina, da oggi in orario 8.17 fino al 2 novembre, riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!